bentornati alla cucina del gatto oggi per soddisfare la nostra voglia di pesce un bel cefalo cotto a forno ma vediamo come fare un cefalo a persona limone timo fresco prezzemolo olio extravergine d'oliva sale pepe disponiamo il cefalo eviscerato su della carta forno apriamogli la pancia e farciamolo con del limone dei rametti di timo il prezzemolo sale pepe e olio avvolgiamo il pesce con la carta forno e poi con della carta d'alluminio richiudiamolo come una caramella e inforniamo a 190 gradi per 30 minuti a fine cottura scartiamo delicatamente la caramella e disponiamo il cefalo su di un piatto lungo serviamo caldo se la ricetta ti è piaciuta clicca su mi piace iscriviti al canale alle prossime ricette del gatto mi piace iscriviti al canale alle prossime ricette del gatto